Ragazzi, come state? Spero bene. Ecco arrivato il mio momento preferito del mese. Però stavolta ho deciso di cambiare un po' e non sono andata nella mia solita estetista. Anche se devo dire che la mia estetista è veramente molto brava, ma a me, come sapete, piace cambiare. Sono andata in questa nuova e l'ho spiegato come doveva fare, essendo che io ho la mano un po' diversa dalle altre. Abbiamo impiegato un po' più di tempo, lei mi ha rassicurato, perché io ero un po' titubbante, come sempre, d'altronda. Però diciamo che con le sue parole un po' rassicuranti ce l'abbiamo fatta e diciamo che sono venuti un po' stravaganti. Io le ho spiegato che, diciamo, le mie vecchie battaglie con delle estetiste che si sono rifiutate di farmi le mani perché ci devono impiegare un po' più di tempo. Però fortunatamente poi nella vita si incontrano persone che ti fanno cambiare idea perché io inizialmente prima non me le volevo fare le unghie. Comunque questo è il risultato finale, un po' stravagante. Spero che però vi piaccia. Grazie a Gloria che mi ha rassicurata sinceramente. Grazie a tutti.